Ciao e benvenuti a questa nuova puntata dello spirito degli alberi. Siamo tornati nella bottega del legno del nostro bio falegname Oliviero Tomasoni, che ringrazio. Ciao! Ciao! Oggi vogliamo parlare insieme a te, Oliviero, delle spezie. Già 3.000 anni prima di Cristo erano note quasi 5.000 tipi di spezie. Cinesi, persiani, assiro-babilonesi, egiziani, sumeri. Le utilizzavano sia in ambito della cucina che in ambito medico, fitoterapico e anche come elementi delle pozioni magiche e dei riti. Oggi parliamo di quali spezie? Oggi parliamo di tre spezie che sono praticamente la nocea moscata, la cannella e i chiodi di gherofano. La scelta è caduta su il popolo in piedi delle spezie, lo chiamo io, perché in questo in realtà noi li vediamo sotto forma di droga o di spezie, ma in realtà questi sono veri e propri alberi. In molti casi abbiamo degli alberi anche che arrivano fino a 10-15 metri di altezza, quindi non sono degli arbusti ma sono dei veri e propri alberi e sono praticamente il popolo in piedi delle spezie. Un piccolo cappello è dedicato proprio a che importanza hanno avuto per il commercio soprattutto, perché l'Italia era al centro del commercio delle spezie, attraverso le proprie repubbliche marinare, quindi Genova, Amalfi, Venezia, eccetera. L'importazione delle spezie avveniva attraverso i paesi arabi, fino a quando Magellano ha deciso di cambiare rotta e quindi i portoghesi per un periodo, transitando appunto facendo la circonnavigazione, quindi transitando attraverso i mari, andavano direttamente a rifornirsi dalle spezie, svincolando quindi il commercio rispetto a quello che era il commercio che era praticamente monopolio delle repubbliche marinare italiane. Anche se poi avvengono altri fatti in cui in realtà queste repubbliche che ricavavano grandi utili dal commercio delle spezie, immaginiamo che le spezie erano veramente fonte di una grande ricchezza, erano carissime, poi magari specifichiamo spezia per spezia il tipo di costo che poteva avere in quel tempo paragonato al tenore di vita chiaramente. Era anche una moneta di scambio. Era anche una moneta di scambio, tanto è vero che ad esempio il pepe veniva usato come moneta addirittura, equivaleva a una moneta. E quindi poi nella storia si racconta anche, e la storia dimostra anche che poi le repubbliche marinare si sono fatte furbe e hanno cominciato un contrabbando delle spezie, in realtà perché i galeoni che partivano per questi lunghi viaggi verso l'India, naturalmente non tutti tornavano e quindi c'era anche carenza di spezie. Allora tutte queste repubbliche marinari si sono arricchite contrabbandando le spezie e aumentando a dismisura i prezzi. Questo come... La legge dura del mercato. La legge del mercato. Diciamo così. Addirittura ci sono storie mitologiche che gravitano intorno alle spezie. Per tanti anni, come dicevi tu, per tanto tempo sono stati gli arabi a detenere il potere, diciamo, d'acquisto e di commercio delle spezie. E per mantenere questa esclusività raccontavano che le spezie venivano protette da draghi, da elementi fantastici e personaggi animali anche straordinari. Poi nel tempo questa tradizione si è persa, perché appunto si è aperta la via delle spezie e lì, e poi sono subentrate altre storie. Altre storie. Però oggi vogliamo parlare di tre spezie in particolare. Sì. La cannella. La noce moscata, partiamo con la noce moscata. E i chiodi di garofano. E i chiodi di garofano. Poi vedremo piano piano perché abbiamo scelto queste tre spezie. Per iniziare. Da dove partiamo? Partiamo dalla noce moscata. Allora, la noce moscata è un albero che raggiunge anche i 10-15 metri, 20 metri di altezza. Nell'area in cui cresce naturalmente, qui parliamo di climi tropicali o subtropicali. La noce moscata è impossibile coltivarla dove fa freddo, quindi abbiamo bisogno dei 10 gradi e oltre, è di un clima molto particolare. La noce moscata, diciamo subito che è legata a Giove, e in questo caso è un Giove particolare, nel senso che è un Giove che facilita la concentrazione. Perché? Ed è strano perché il Giove è l'espansione. Giove perché l'espansione e la concentrazione invece viene in mente invece di concentrarmi. Potremmo dire l'espansione nella concentrazione per trovare la direzione. Molto bello. Ed è strana questa cosa, però di fatto l'albero ha tutte le caratteristiche proprio di Giove. Però noi sappiamo che la noce moscata ha questo utilizzo, anche facilita proprio la concentrazione, anche dal punto di vista della fisioterapia, dell'olio essenziale o dei gemmo derivati. Noi abbiamo questo aspetto nella noce moscata, poi parliamo anche degli altri che sono veramente innumerevoli. Nella noce moscata in realtà si ricavano due spezie distinte. Una è quella che vediamo qui, che è la noce, e poi nella parte che riveste la noce, subito dopo il guscio, abbiamo un berillo che potrebbe essere rosso o giallo e che fa capire se questa noce moscata viene da Sri Lanka o viene da altre zone, perché in altre zone cresce con colore giallo. E si ricavano due spezie, praticamente il maciz e la noce moscata. Il maciz è leggermente meno forte, meno pungente, molto più dolce come sapore. Tanto è vero che Puglino il Vecchio ne parlava già nei suoi scritti, dicendo che era praticamente l'albero delle due spezie con i due sapori ben distinti. Quindi uno più delicato e uno più pungente. Questo è quello più delicato? Questo è quello più pungente. Questo è quello più pungente che noi utilizziamo, per esempio, in cucina tantissimo, spessissimo si trova nella cucina anche mediterranea. Sì, è utilizzato da noi, arriva in Europa praticamente, già la conosciamo dal Quattrocento, insomma è comunque entrata anche nelle pozioni magiche, nelle cure, nella medicina popolare. Chiaramente era una spezia molto costosa. Tanto è vero che è una spezia che si grattugia, cioè tutte queste spezie hanno questa caratteristica di cui se ne usa veramente una quantità minima, sia per insaporire ma anche per curare. Non bisogna mai eccedere nelle dose in questo caso. Ecco, l'aspetto farmacologico legato alla noce moscata qual è? Quali effetti benefici ha sul nostro corpo, posto che bisogna usarne con parsimonia e secondo prescrizione? Perché chiaramente queste sono spezie e non è dato, cioè vengono utilizzate anche nella farmacia, nella medicina. Sì, esatto. Da cui poi si ricavano, la medicina ha imparato a ricavare questi oligoeventi o comunque questi principi attivi a livello sintetico. Io la penso sempre diversamente, penso che la natura fa un lavoro più armonico e quindi nella spezia stessa ci sono dentro altre sostanze che dal punto di vista scientifico non le conosciamo ma che la rendono molto più armonica come cura. Ecco, questo è il mio parere però chiaramente. Diciamo che la noce moscata in dosi eccessive può portare addirittura ad allucinazione, a tutto meno che nel novecento era considerata la droga dei poveri per intenderci e quindi gente che ne abusava per avere questo tipo di allucinazione, una droga vera e propria intesa in senso negativo in questo caso. E invece da un punto di vista positivo qual è la funzione della noce moscata? Dal punto di vista positivo la noce moscata sicuramente facilita la digestione, è un antisettico molto potente, un po' come tutte queste droghe, facilita proprio anche il ricambio energetico del corpo fisico. Tutte queste spezie hanno questa caratteristica perché sono molto scaldanti, infatti quando prima facevo riferimento al pianeta di riferimento che è giove, ma qui abbiamo un giove sole in realtà in quasi tutte queste qui abbiamo comunque la componente del sole, perché sono spezie molto scaldanti, tanto è vero che sono spezie che andrebbero utilizzate soprattutto durante i periodi freddi, mesi freddi. Ma quali sono le altre spezie che vogliamo presentare oggi? No, presentiamo anche la cannella che anche questa è ricchissima di significato. La cannella la conosciamo molto bene perché la troviamo anche in tantissime preparazioni dolci e soprattutto mi pare di ricordare, magari tu sarai più preciso di me, che anche questa anche questa spezia viene dalla Cina e dello Sri Lanka e viene utilizzata spessissimo per esempio nello Strude, il Trentino, quindi dalla Cina, dalla Sri Lanka fino alle nostre montagne, è incredibile. Sì, ha unito proprio interi continenti, possiamo dire. La cannella è anche questa, è un sempreverde, tutti questi alberi sono sempreverdi e quindi sappiamo che la simbologia è sempreverde, è una simbologia molto potente dal punto di vista delle tradizioni e anche della simbologia stessa, cioè un albero che cresce ed è sempreverde, fiorisce tutto l'anno chiaramente, ha delle caratteristiche energetiche molto importanti, come lo ha in realtà la cannella. Abbiamo due tipi di cannella come dicevi tu bene prima, una che viene da Sri Lanka e una che viene dalla Cina. Questa viene da Sri Lanka perché ha questo tipo di colore, quella cinese è leggermente più grigia, diciamo che è più grigia ecco, come colore, per distinguere i due tipi di cannella. A quale pianeta, scusami, potremmo collegarla? Qui abbiamo un Marte invece, quindi abbiamo la grande decisione del cambiamento, abbiamo la forza vitale, la cannella va a stimolare proprio la forza vitale, è legata a una bellissima leggenda, la cannella si dice che ci sia un uccello, si chiama anche Cinamomo, che utilizza la sua corteccia per costruire il proprio nido. Una leggenda addirittura narra che l'araba fenice, prima di esalare l'ultimo respiro, porta nel suo nido la cannella, in modo che la sua morte inondi poi il profumo di cannella e sparga il profumo di cannella intorno al suo corpo che ormai è andato in un'altra realtà, in un altro mondo, quindi a 500 anni, addirittura la storia racconta proprio anche nell'anno preciso in cui l'araba felice muore, ma prima di morire nel suo nido mette la cannella, perché il profumo della cannella è un profumo inebriante, molto dolce, secondo me molto piacevole anche. Certo, viene utilizzata spessissimo per le preparazioni di tè, di caffè, di cioccolate, o di profumeria, tantissimo, quindi effettivamente il suo intenso profumo lascia il segno. Non avrei mai detto, Oliviero, che l'avremmo abbinata al pianeta Marte, perché così dolce avrei pensato ad un altro pianeta, non lo so, un Venere, e in realtà no, perché è proprio a Marte? Marte perché è proprio, essendo un grande tonico anche, è proprio l'energia vitale, cioè va a stimolare e a recuperare l'energia vitale, infatti viene utilizzata anche come olio essenziale, che fra l'altro è anche, tra la parola lentesi, è anche un olio essenziale che calma il dolore, quindi ha un po' di contraddizioni nella sua simbologia, però di fatto ha questo tipo di caratteristiche, in cui potremmo dire che qui abbiamo un Marte sole, perché abbiamo un Marte anche qui scaldante, e quindi ha questa capacità di scaldare, infatti non so se qualcuno mai si è fatta una tisana di cannella, che è buonissima, fra l'altro con un po' di miele ha subito questo senso di calore. Sì, è un calmante anche per la gola. È un calmante, è un antisettico eccezionale, ha delle virtù notevoli dal punto della farmacopea naturale, è incredibile, è una pianta incredibile da tutti i punti di vista. Come un po' tutte le nostre spezie. Questa in realtà è una corteccia. Noi utilizziamo questa parte dell'albero per una serie, come dici tu, di rimedi che vanno da che cosa? Dall'antisettico all'antinfiammatorio, al digestivo, antibatterica, quindi ha delle caratteristiche notevole. Si pensa che fin dal 2700 a.C. sia stata utilizzata proprio come medicina vera e propria. parliamo della medicina tradizionale indiana e della medicina ayurvedica, che sono medicine molto più antiche della nostra. Della cannella però ne parla anche la Bibbia. Ne parla la Bibbia nell'esodo, praticamente, quando Mosè deve fare il rito di purificazione del Tempio, una delle erbe che era prescritta era anche la cannella. E ne parla anche Nostradamus. Ne parla Nostradamus perché Nostradamus diceva che la cannella era fondamentale per fare le pozioni legate all'amore. Però c'è un'altra spezia di cui vogliamo parlare oggi, che sono i chiodi di garofano, che stanno profumando tutta la bottega del legno. E che davvero sono preziosissimi per la nostra salute. Io ricordo un vecchio gioco che mi faceva fare la mia nonna d'estate, mi diceva di prendere un limone, tagliarlo a metà e inserire i chiodi di garofano per profumare la dispensa. Si usa ancora? No. Si usa ancora, si usa ancora anche negli armadi, si usa o il limone o l'arancio perché poi sprigiona questo profumo intenso che scaccia le tarme, ad esempio, dei vestiti. Quindi nella medicina, anche nella medicina popolare o comunque negli usi popolari, il chiodi di garofano è molto conosciuto. Anche qui abbiamo un elemento marziano, in questo caso è definito la fiaccola che illumina la nuova via. Eh beh, questa proprio sembra una fiaccolina piccolina piccolina, il chiodo sembra proprio una fiaccolina. Si. Che poi il garofano in realtà è un altro fiore, però questo ricorda un po' il profumo, anche se in realtà è una grande spezia anche questa. Dicevi che è legato a Marte e? È legato a Marte nel senso che è quello che indica in questo caso dall'energia, perché Marte è fondamentalmente energia, per imboccare la nuova via, tanto è vero che è considerata la fiaccola, ed è vero che ricorda un po' la forma della fiaccola, no? La fiaccola che illumina la nuova via. Molto bello anche questo termine, secondo me questa simbologia che è legata a questa spezia. Anche questa è una sempreverde, è un albero che noi non conosciamo, viene anche coltivato, ma naturalmente viene coltivato anche in altre zone del mondo, però ha bisogno di serre, di temperature e di umidità particolari, perché è da un albero che raggiunge i 10-15 metri di altezza. Quindi non è piccolina. Quindi veramente, queste tre spezie sono le spezie di un popolo in piedi, nel senso che da tutti i punti di vista sono alberi proprio, non arbusti ma alberi. Questa spezia viene dal Madagascar, mi pare, ed è utilizzata nella cucina tantissimo per soprattutto bilanciare alcuni piatti molto intensi, vi dà il sapore molto intenso, per esempio la selvaggina, per chi mangia carne. Però appunto, dicevi, viene utilizzato anche per profumare e magari negli infusi. Sì, viene usata negli infusi anche perché combatte chiaramente tutte le malattie di raffreddamento, infatti ha dentro degli antiossidanti notevoli da questo punto di vista e poi è ricco di vitamine, soprattutto del gruppo C, del gruppo A, del gruppo B. Quindi veramente nella farmacopea ha un'importanza rilevante tutto quello che viene stato dal chiodogorofano fino all'olio essenziale. Quando parliamo di olio essenziale, in questo caso naturalmente abbiamo diversi tipi di qualità dell'olio essenziale, chiaramente il migliore in assoluto è quello ricavato dai fiori, perché in realtà il chiodogorofano è un fiore essiccato ed è un fiore anche molto bello, è una pianta che continuamente fiorisce e quindi dà questo frutto. Immaginiamo che tutte queste tre piante di cui abbiamo parlato, tre spezie di cui abbiamo parlato, crescevano una volta nello stato spontaneo, dopodiché la grande richiesta che si aveva in tutto l'emisfero ha portato poi ad instaurare delle proprie coltivazioni. Senti, ha delle caratteristiche particolari il chiodogorofano da un punto di vista proprio organolettico e relativo a sali, minerali e vitamine? Sì, perché contiene molto calcio, potassio e ferro, quindi è sodio anche, quindi abbiamo quattro minerali all'interno di questa spezia e sono proprio le caratteristiche che l'albero riesce a sintetizzare in quel tipo di clima, in quel tipo di albero, questo è fantastico pensare perché alla fine è l'albero che produce questa spezia. Fra chi l'ha usata più spesso e prima di tutti ci sono i cinesi, quindi, che hanno utilizzato questa spezia, per quali preparazioni? Ma è un'altra delle spezie fondamentali nella medicina, delle tre spezie fondamentali dette le spezie dei re, fra l'altro, cioè hanno anche questo nome molto simbolico perché entra nella farmacopea ayurvedica, quindi noi stiamo parlando dell'India, stiamo parlando della medicina tradizionale cinese in questo caso anche, quindi abbiamo un po' tutta l'Asia che era praticamente quella che forniva poi queste spezie in realtà. Non solo i cinesi hanno utilizzato da sempre, utilizzano da sempre i chiodi di garofano, ma anche gli egizi. Gli egizi, sì, nelle pratiche di imbalsamazione il chiodo di garofano è una delle componenti. E noi oggi invece lo utilizziamo all'interno di qualche pomata anche per i denti. Sì, è stato usato come analgesico in forma naturale perché si ricava poi l'eugenolo che è un principio attivo proprio del chiodo di garofano che ha questa capacità di placare il dolore soprattutto dalle gengive, dei denti e viene usato anche come anestetico a dosi naturalmente più elevate. Poi naturalmente la nostra medicina che è una medicina di sintesi fondamentalmente ha introdotto questa sostanza ricavata dalla sintesi e non più dal chiodo stesso, quindi dalla natura. Oliviero, abbiamo compreso che queste tre spezie, le prime tre spezie che ci hai presentato sono legate a Marte e sono quindi toniche e forti, Marte e Giove, che sono comunque diciamo due pianeti belli tosti. Oggi abbiamo anche la fortuna di assaggiare dei biscottini fatti realizzati da tua moglie che ha preparato i dolcetti della fortuna? No, si chiamano i biscotti della gioia. I biscotti della gioia. E derivano proprio da una ricetta di Santa Idelgarda, questa grande santa, parliamo dell'undicesimo secolo, che ha scritto bellissimi libri sulla medicina, ispirata, diceva che i suoi medicamenti derivavano direttamente dal contatto che lei aveva stabilito con Dio, quindi cose molto importanti da dire e in alcune delle sue ricette, perché il santo Idelgarda è da leggere perché ha scritto grandi libri sulla naturopatia e sull'utilizzo anche dei cristalli oltre che delle erbe, quindi è una conoscenza infinita e questo biscotto si chiama biscotto della gioia, perché qui abbiamo le tre spezie di cui abbiamo parlato prima, la farina naturalmente, le uova, come aggregante di queste tre spezie, sono chiamate i biscotti della gioia perché queste spezie tutte hanno la caratteristica di favorire il buon umore e il buon umore è uno dei requisiti per essere poi felici e gioiosi, no? Nella vita e affrontare le difficoltà della vita terrena. Allora, assaggiamo questi biscottini e vi diamo appuntamento alla prossima puntata con la via delle spezie e scopriremo altre essenze che troviamo nella nostra cucina, nella nostra tradizione. Alla prossima! Allora, assaggiamo!